Allora, qua abbiamo il solito problema che si spegne il cellulare, anche se libero la memoria e ne veremo a capo, è indispettoso. Allora, ieri sera, quindi l'avrete visto questa mattina, ecco, ho fatto questi campioni. Veramente avevo promesso solo questo e un tutorial, ma se il cellulare oggi mi fa così, il tutorial non lo posso registrare. Allora, questa è la stola che dedicherò a Gigi, perché questo motivo mi ricorda un po' le cevalli. Poi i buchini sono quelli che in realtà creano un bel motivo, che sembra quasi una farfalla, questo gruppo di buchini. Ecco, qui avremo la stola, quindi vi farò il tutorial per mettere insieme questi filati, perché io soprattutto di questo volevo parlare, della meravigliosa abbinata del gas Lollocrea, che è un cotone 100% gasato e del gasato, che poi non si chiama così il trattamento, però è uguale, e del soffio nel grigio scuro, praticamente nero, che è rimasto in casa, con baffetti grigio chiari. Che cosa aumenta? Aumenta una qualità del gas e la mano vellutata, pare proprio di accarizzare del bellissimo velluto cangiante e siccome mi piaceva proprio tanto questo insieme, che avevo subodorato, mettendo insieme due fili, come vi ho consigliato di fare, quando volete un po' così capire come può essere l'insieme di filati e di colori, ecco, metteteli vicini, arrotolateveli sul dito e così avete un'idea. Ora, accarezzate poi quanto avete ottenuto e vedete un po' che effetto vi fa. Allora, c'era, mi piace molto il punto diamante, non credo che sia questo, e tra l'altro l'ha anche ben spiegato Gloria Pennati. Cara Gloria, ma sapete che io viaggio e voglio il punto diamante e poi lo faccio con lei. Non lo so se è uguale a questo punto, che compare in quella rivistina dal quale ho preso il motivo a foglie che sto utilizzando per realizzare il top di Camilla con il Mako. Allora, mi piace tantissimo, non è banale questa cosa, nel senso che cos'è che non rende banale un lavoro? Il fatto di ottenere un certo risultato estetico e di affrontare qualche difficoltà. E quindi abbiamo qualcuna che è quella di riconoscere i punti dove si deve andare a lavorare. E quindi servono dei marca punti, sì, ai lati servono dei marca punti, perché diventa complicato capire da che parte bisogna andare. Poi ve lo farò vedere. L'insieme mi è piaciuto tantissimo, la trasparenza alla mano poi. Ho lavorato con un 4, un 4 mano morbida. Non vuol dire che lascio andare il lavoro, che ho avvertito tra le dita la giusta tensione e quindi lascio spazio ai miei filati affinché si possano esprimere. La bella caratteristica del gas permette di ottenere questi punti che si mantengono aperti. Ed ecco che noi enfatizziamo l'effetto lace, quindi l'effetto merletto, pizzo, punti aperti. Quindi del filo che crea, che disegna dei vuoti, ecco il filato che disegna dei vuoti, se dobbiamo proprio spiegare il lace. E mi è piaciuto assai. Ricordo che il gas lo potete trovare anche in un bianco incantevole. Non è un bianco ottico, ma è un bel bianco, un bianco donante. E anche a quel bianco voi potreste abbinare il kid more che preferite, come lavorarlo in purezza. Come ho già raccontato nel video precedente, quello lungo. Ecco, il gas è uno di quei filati che si prestano per il filet. Gli scialli filet, parlo di scialli, perché devono mantenere una bella gradevolezza sulla pelle e definire bene i vuoti e i pieni. E io vi ci affido. Fate una prova, poi la farò pure io, ma questa è la mia sensazione toccandolo. Ovviamente, dovendo replicare, dovendo realizzare un motivo a filet, quindi non semplicemente... Scusate, non so perché questo lanteghetto, che ho mangiato oggi? Niente di che? Niente ho mangiato, niente. Allora, quando vogliamo realizzare del filet, dobbiamo creare una certa armonia di tensione. E quindi, che i pieni siano dei bei pieni e vuoti pure, tutto abbastanza regolare, in modo che se c'è un disegno lo si possa ben riconoscere. Abbiamo dei piccoli margini per quanto riguarda l'ampiezza del punto, però ci vuole una mano regolare. E io il gas ve lo consiglio. Non vi viene niente di rigido, ma sicuramente raggiungete una bella consistenza con una mano assai vellutata. Questo insieme, che ho ottenuto con il 4, ricordo che lo spessore del filato è di circa 2,5 mm. Ecco, questa è la ricchezza del soffio. Ve la faccio vedere in controluce sulla scatola. Avete notato che è una scatola in grembo? No, così, l'avete notato? È nuova, eh? Non è il sedere, è la parte superiore, eh? Preparatevi, ecco, vedete qua, sì, il cuore di questo filato è meraviglioso, è un grigio perla. Ecco, chissà perché io l'avevo visto più scuro. Ecco, con questa peluria ricca e soffice del moer distribuito in lunghezza, c'è anche, vedete, un cuore scuro. In questo caso, oggi, prende più luce il chiaro. Ha, 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 va bene. Comunque, sono due fili messi insieme, uno grigio chiarissimo e uno nero, dal quale, dal nero, fuoriesce questa bella peluria tipica del kid moer. Abbiamo anche della pelurietta chiara, ma è impercettibile. Ed ecco che abbiamo un nero dolce, uno spessore dato dai due strati, quelli che fuoriescono verso l'alto e verso il basso, da una facciata e dall'alta del moer, che si distribuisce un po' casualmente, che va a velare gli spazi, i vuoti, soprattutto i vuoti definiti dai punti realizzati in successione, quindi le catenelle. Ecco, in questo pezzo vengono utilizzate semplicemente delle belle catenelle, di una certa lunghezza, delle maglie basse e dei punti alti singoli. Questo è, ma la cosa che va, non permette tanta distrazione, è quella di eseguire le prese dei punti, a volte sfruttando l'arco, a volte entrando nella catenella. Questo per quanto mi riguarda. E una difficoltà si incontra anche nel chiudere il giro e nell'aprirlo, insomma nel punto giù, spiegato nel chiudere il giro. Ecco, ve la devo far vedere nel suo verso, che è questo. Eccolo qua. Allora, se per alcuni motivi a crochet le dimensioni del pezzo non sono poi così fondamentali, parliamo di sharp, in questo caso, non parliamo di tagli e di abbigliamento, Per quanto riguarda questo motivo, ecco, io gli darei gran respiro, quindi mi concentrerei e immaginerei e preventiverei, 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 preventiverei. Aiutami tu, che sei dall'altra parte, che oggi mi incespico. Ok, allora metterei in preventivo una bella superficie, un bel capo veramente ampio, ma ampio, 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 ampio in larghezza, e ci darei proprio dentro. E' un bello lunghetto, perché lui addosso, drappeggiato, dove si arricchisce questa trasparenza con il drappeggio intorno al collo, quindi queste belle ondine in successione, ecco, io lo lovo proprio tanto, lo vedo ampio. Sarà leggero grazie a questi vuoti e sarà bello sentirselo sulle pelle, ecco, vedete, ma perché è in inverno? È in inverno e ve lo sentite sul collo, magari sui polsi, però adesso, adesso è dolce. Ricorda l'inverno perché c'è la peluria? A me no, perché abbiamo già delle seratine a sei fresche e quindi magari ci va di stare un po' sbracciatelli, andiamo a fare le passeggiate per strada, nelle nostre belle piazze. Andiamo a prenderci qualcosa insieme ai nostri amici, ai nostri cari, o anche singolarmente con un bel libro presso, il nostro lavoro a maglia, un bel ricamo, il croce, seduti in un bel tavolo e magari aspettiamo sera e ci va di coprirci le spalle con qualcosa che ci dia tepore, non si appiccichi addosso e il moer non appiccica, a meno che non siamo proprio affetti da iperidrosi, ecco, sudorazione abbondante. Ma ecco, crea questa bella intercappelline tra noi e il resto, rimane sollevato dal corpo, quindi da tepore senza pesare, perché il pezzo comunque sarà leggero. E' vero che il cotone ha un bel peso, ma questi vuoti, guardate un po', sarà un capo bello sempre, ha la bisogna, non c'è stagione, non ce l'ha la stagione. Se volete scegliere il bianco, scegliete il bianco e abbinate, se volete questa meraviglia, abbinate a lui il colore che preferite, perché potrebbe anche essere un colore in contrasto. Andate a vedere che bella collezione colori viene proposta con il, adesso non ve lo dico come si chiama, mi viene in mente fuffo, l'ho già detto oggi alla Lollo, come si, come, eh non ve lo dico il moer come si chiama. Mannaggia a me, aspettate un po' che avevo l'etichetta, ma sto proprio fuori, suonate, il, vediamo un po' come si chiama, oh, andatevi a cercare, andate, reparto bambini, no, reparto filati invernali, lo so, ho dei problemi con la memoria ultimamente. Andate a reparto invernale, che poi è primavera, che poi è anche estate, oh, andate un po' a vestirvi di lino sul Pordoi in pieno agosto e mi dite un po' come state, anche se ne mettete dieci di strati, eh, sul Pordoi, voglio vedere come è stato in agosto. Ehm, poi prima o poi mi viene in mente, andate al reparto invernale, guardatevi che bei filati ci sono sempre disponibili in tutte le stagioni, la Lollo Crea, questo bel negozio online, gestito da queste tre sciure, da queste tre donne, è aperto, rimane aperto tutto agosto, magari saranno un po' i corrieri che non consegneranno con Solerzia, perché l'organico, insomma, è quel che l'è durante i mesi di ferie, che però spediscono sempre, e vedete qua, ora lo apriamo, e quindi preparatevi a questo tutorial, e poi vi disegno, vi disegno, vi disegno anche, vi viene in mente il pelo, io sto ancora pensando al nome del bel Moer Lollo Crea, eh, viene in mente il pelo che ce l'ho sul tavolo, che adesso me lo sono appena accarezzato, è meraviglioso, ma non è. Oh, caspiterina, poi sto pensando a quelle cose lì, ecco, questo, il dritto è questo qua, forma un po' una punta verso l'alto, ricorda le ali della Gigi, quando ancora non si aprivano benissimo e zompettava, zoppicando per il bagno, potete scegliere quei bei colori meravigliosi che ricordano, fanno ricordare i fiori, del, aiuto, non lo registro, eh, ve lo scrivo sotto, vi metto il link, va bene, che pigori, andate a vedere tutti i filati che sono disponibili, che c'è quella meraviglia, mi sto setta e tante cose belle, negli estivi, e poi andate un po' anche in quelli fantasia, che io ce l'ho pescato di quelli belli, va bene, oh no, mi viene in mente, non lo volevo, non lo vorrei chiudere, finché non mi viene in mente, come si chiama? Allora, ha una doppia, soffio, oh, ah che l'ho fatta, vedete che il cervello se lo stimoliamo sarà un po' lento, però ci arriva, quindi sceglietevi il soffio nel colore che vi piace di più insieme al bianco, magari un colore che vi dà un po', che ne so, io quel bianco come lo vedo? lo vedo più con i colori freddi o più con i colori caldi? Lo vedo con i grigi o lo vedo con i beige? Ah, sapete che non ve lo saprei dire, con i colori lo vedo, ah sì, con i colori dei fiori lo vedo assolutamente, ma lo vedo anche con i colori del cielo, quello bello, ma anche quello un po' morbido, pan di zucchero, oh che belle nuvolette che viaggiano, che bellissimo lungo il tevere, belle, tante navicelle, bellissime, poi c'è una nuvola che mi guarda con fare minaccioso e sembra un gufo, brutta, brutta, sei brutta e sei cornuta, davvero eh? c'è una nuvola cornuta che mi guarda, le corna schiacciate verso i lati, bruttissima sei, dissolviti, non la guardo, va bene, allora adesso siete pronti, lo chiudo eh? Eccolo dopo, la piazza, bellissimo, bello, mi piacciono tutti e due, perché il crochet è più del tricot in questo momento? Ma non è così, è perché il crochet mi ricorda le vacanze, e poi sono tornata ad amare il crochet, e mia figlia è tornata ad amare il crochet, e quindi diamoci di crochet, devo fare un sacchettino per la mia vicina di casa oggi eh, mi ha chiesto un sacchettino rosa per consegnare un gioiellino, e quindi oggi devo fare un sacchettino rosa ad uncinetto, e glielo fo, adesso, prima registro la nostra cosa, poi glielo fo, ciao, tra poco.